Dunque ritorniamo insieme in diretta, il nostro ospite si sta sistemando e con lui parleremo di formazione e lavoro attraverso le nuove professioni digitali nella speranza che queste possano essere o rappresentare un argine per il fenomeno purtroppo ancora rilevante dei cervelli in fuga. Lui è Francesco Lamacchia, founder di Dotacademy che appunto si occupa di formazione post diploma e post laurea per provare a mettere in connessione il mondo della formazione con il mondo del lavoro e tante volte ci riesce. Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno Tony, buongiorno a voi e buongiorno a tutti quanti. Il settembre è il mese delle ripartenze, si ritorna tra i banchi di scuola o in ogni caso ci si rimette alle prese con la formazione, una formazione che oggi più che mai deve, soprattutto quella post diploma e post laurea, deve entrare in connessione con il mondo del lavoro. Altrimenti i nostri talenti, i nostri cervelli non smetteranno di fare le valigie per andare a lavorare all'estero. Durante tutta l'estate, in maniera particolare nel mese di agosto abbiamo letto articoli di giornale, articoli internet su cui abbiamo visto grafici e riflessioni su quanto il fenomeno sia rilevante. Queste sono grafiche di repertorio che abbiamo conservato in questi giorni. Qualche giorno fa, se ritorniamo sul sole 24 ore, qualche settimana fa titolava proprio in prima pagina Giovani il 35% pronto ad espatriare. Poi con i mitici ragazzi di Will Media abbiamo seguito un po' anche dei grafici che ci restituivano in maniera plastica quanto il fenomeno sia importante, soprattutto per l'Italia. Ecco, in questa grafica di Will Media leggiamo se non si riescono a valorizzare i laureati. Questi partono e non può ripartire l'Italia, che come vedete è il paese dove i giovani laureati purtroppo fanno più fatica a trovare lavoro. Ecco, Francesco, ti chiederei una riflessione su questi temi e come ne veniamo fuori sostanzialmente. Beh, innanzitutto non abbiamo sicuramente la ricetta per poter uscire da questa situazione. Possiamo sicuramente immaginare di costruire un sistema differente rispetto a quello attuale. In questo momento ci sono chiaramente delle distanze evidenti tra il mercato del lavoro e quello della formazione. Una formazione che è orientata a creare delle competenze non specifiche. Sono competenze ancora molto generiche e sono competenze che non trovano il giusto riscontro all'interno di quelli che sono i ruoli e le mansioni che l'azienda in questo momento dovrebbe iniziare a far crescere. La mappatura all'interno delle strutture aziendali dei ruoli, chiaramente delle competenze che servono è ancora molto scarsa. Quindi questa attività da parte del HR lenta porta chiaramente una disattenzione nei confronti di quelle che sono le attitudini, le competenze dei giovani che escono dall'università. Università che ancora arrancano in qualche modo nella creazione di quelli che sono gli elementi necessari per poter entrare già in azienda e lavorare. Sono ancora molto teoriche e non si occupano di attività pratiche. Ci vuole più metodologia pratica, ci vogliono più sessioni pratiche, esperienze che in qualche maniera possono accelerare questo processo di inserimento aziendale. Purtroppo c'è stato un fallimento totale da parte di questo governo e dei governi precedenti. Perdonatemi se sono così, come dire, crudo e duro. L'ho scritto anche in un post qualche giorno fa. C'è stato un totale fallimento sia per quanto riguarda la parte di inserimento lavorativo attraverso il SILS, sia per quanto riguarda l'inserimento lavorativo e il lavoro che dovevano svolgere l'impiego insieme chiaramente ad altri soggetti. Ecco, questa rete non ha funzionato, non sta funzionando la rete con le imprese e con le università. Dobbiamo cercare di fare sistema, ma soprattutto dobbiamo lavorare anche sull'aspetto contrattuale. Io ricordo un contratto che esisteva quasi vent'anni fa, il contratto di formazione e lavoro che ci permetteva di poterci formare e di poter usufruire chiaramente di uno sgravio importante per poter chiaramente iniziare a muovere i primi passi all'interno dell'azienda. Ecco, a livello contrattuale oggi non c'è nulla. I livelli ributivi sono molto bassi rispetto a quelli degli altri paesi. L'attrattività delle nostre aziende è scarsa, perché nonostante si punti al benessere, allo smart working e a rendere le condizioni dei lavoratori, dei nostri lavoratori ideali rispetto a quello che loro chiaramente desiderano, siamo ancora molto lontani. Fai bene, Francesco, è necessario che ogni tanto qualcuno suoni la sveglia, fai bene ad essere così perentorio, anche perché la grafica che abbiamo visto mentre tu parlavi, che risale solo qualche giorno fa, sempre a cura di Will Media, ci restituisce un dato drammatico. 100.000 sono gli italiani che solo nell'ultimo anno sono andati all'estero per trovare lavoro. Il 72% di questa entità sono giovani che hanno meno di 40 anni. Ed in un paese come l'Italia, dove il tasso di natalità, sappiamo tutti che è in forte decrescita, ci troviamo realmente in una situazione che può diventare anche drammatica, per cui è necessario passare dai proclami ai fatti, alla sostanza. Esatto, bisogna passare ai fatti, bisogna iniziare a introdurre nuove metodologie didattiche, bisogna iniziare a svecchiare i contenuti didattici e portare chiaramente quelli attuali legati alle nuove tecnologie, ovviamente all'intelligenza artificiale, l'utilizzo chiaramente di sistemi di sicurezza, quindi parlare di cyber security, parlare di blockchain, parlare di realtà virtuale, non sono, come dire, parole bandite, ma sono parole che devono essere utilizzate, sono le parole dell'innovazione del futuro. E noi non abbiamo ancora visione sul futuro, abbiamo una visione ristretta, non parliamo con i giovani, non analizziamo quali che sono le loro aspirazioni, i loro desideri, le loro idee, quindi sì, sicuramente li utilizziamo, però li utilizziamo solamente quando ci conviene. Quando conviene... Sì, senza dubbio è ancora tanto da fare, la dimostrazione lo è anche il fatto che questo tipo di formazione, oltre che in accademie come la tua, come Dottacademy, si fa anche nel sistema ITS Academy, che nonostante sia ormai diversi anni che lavora sul territorio nazionale, è ancora poco conosciuto, per cui in chiusura, siccome tu collabori con diversi ITS, ecco ti chiederei di raccontarci che cosa sono, in maniera tale che chi ci ascolta magari può trasferire, fare passaparola con figli, nipoti, amici, parenti, per comunque segnalare quegli strumenti che possono, anche se sono in parte, iniziare a porre un argine a questo problema. Sì, l'ITS sicuramente oggi è l'istituto che dà la possibilità ai nostri ragazzi al termine del percorso secondario di iniziare a prendere contatto con gli strumenti, con il mercato, con la pratica, sono molto orientati al saper fare, sono costruiti in funzione chiaramente di quello che le aziende desiderano, hanno una funzionalità a volte anche superiore a quella universitaria, quindi io consiglio spesso di iniziare un percorso ITS, poi eventualmente con i crediti formativi integrarlo con il percorso universitario, ce ne sono di diversi tipi, chiaramente molto verticali, molto legati a quelli che sono le specificità delle aziende dei vari settori, in questo momento io mi sto occupando della parte marketing, soprattutto marketing automation, con l'ITS di Brescia, che è il Macchina Lonati, dove abbiamo sviluppato un percorso legato al Marketing Technology Specialist, quindi una figura molto tecnica, molto legata chiaramente alla programmazione, molto legata chiaramente anche alle nuove, ai nuovi sistemi di intelligenza artificiale e di realtà virtuale. Questo lo si può replicare in tutta Italia, bisogna chiaramente aiutare l'ITS come professionisti a sviluppare sempre più percorsi specifici per permettere chiaramente ai nostri ragazzi di avere una prima porta di ingresso importante all'interno del mondo del lavoro. Grazie, grazie Francesco. Quindi ecco, ricordiamo che il sistema ITS Academy è presente su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud, isole comprese, è un percorso di due anni, post diploma o post laurea, o come dicevi tu, da poter affrontare anche durante il percorso di laurea, che prevede su 2000 ore di didattica ben 800 ore di stagi in azienda, per cui ecco, può essere una di quelle strade per risolvere i problemi di cui si parlava. Caro Francesco, il nostro tempo a disposizione si è vaporizzato, ma io spero di poter tornare con te su questi temi anche in futuro. Intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata, grazie. Buona giornata a te, buon lavoro. Noi ci fermiamo un attimo per una nuova pausa pubblicitaria, poi ritorniamo con gli aggiornamenti a quella di Paola Russo e Leonardo Fania che farà il punto sull'ottantasesimo capitolo generale dei frati minori Capuccini. Linea alla regia.